Due abitazioni, un terreno, tre auto rimesse e 13 autovetture, tra cui una BMW 535 e un Opel Zafira per un valore complessivo di circa 95.000 euro, sono state poste sotto sequestro dalle fiamme gialle polesane, in esecuzione di un decreto emesso dal Tribunale di Venezia sezione distrettuale misure di prevenzione, nei confronti di due soggetti facenti parte di un corposo nucleo familiare nomade in cui il capo famiglia è agli arresti domiciliari e la maggior parte dei componenti risultano essere già noti alle forze dell'ordine per reati di particolare allarme sociale, furti, rapine aggravate, violenze fisiche, nonché già sottoposti a misure restrittive personali e a misure di prevenzione personali. Ne dà notizia il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Questi soggetti, radicati nel comune di Canaro, erano stati tra l'altro oggetto di un comitato ordine e sicurezza pubblica e quindi segnalati alla Prefettura di Rovigo quali persone di possibile turbativa sociale alla comunità locale. Pertanto sono scattati, a cura dei finanzieri, della sezione mobile del nucleo di polizia economico-finanziaria, complessi accertamenti finalizzati ad accertare la legittima provenienza dei proventi che avevano reso possibile l'accumulo dei beni in argomento. Le indagini, svolte anche attraverso l'ausilio di numerose banche dati, hanno riguardato tutto il nucleo familiare residente a Canaro ed hanno consentito di far emergere in particolare le posizioni di due persone fisiche risultate essere intestatarie dei citati beni immobili e mobili registrati, assolutamente incoerenti e sproporzionati rispetto alle fonti reddituali, se si considera che questi soggetti non hanno mai dichiarato alcun reddito e non avrebbero avuto quindi, almeno lecitamente, le disponibilità finanziarie per l'acquisto e la manutenzione dei suddetti beni.